Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Buona festa della donna! Oggi ho deciso di festeggiare questo giorno pubblicando un video a sorpresa, o comunque un video in più rispetto alla nostra programmazione settimanale. E ho deciso di dedicare questo video alle mie autrici preferite. Prima di iniziare a parlarvi di loro vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! La prima autrice di cui vi parlo è Joan Harris. Joan Harris è una delle mie autrici preferite e devo dire che ogni tanto ho bisogno di ritornare nelle sue storie e leggere un suo libro. L'ho conosciuta grazie a Chocolat, che è il suo libro più famoso, ma in realtà ha pubblicato veramente molto. Joan Harris è nata da madre francese e padre inglese, ma è cresciuta in Francia e la sua infanzia si è svolta all'interno del negozio di dolciumi di suo nonno. Inoltre si dice che sua nonna fosse una strega e una guaritrice, e questi elementi hanno enormemente condizionato anche i contenuti delle sue storie. È diventata famosa nel 1999, quando ha pubblicato per l'appunto Chocolat, dal quale è anche stato tratto un film con Johnny Depp. Il film è bellissimo, ma il libro è ancora più bello, soprattutto perché nel film hanno deciso di modificare un po' il finale, quindi se non l'avete letto vi consiglio comunque di leggere anche il libro. Nei romanzi di Joan Harris quasi sempre le protagoniste sono delle donne, delle donne molto legate alla terra, alle stagioni, che insomma sanno anche andare oltre le apparenze, che sanno in qualche maniera dominare gli elementi della natura. Non sono sempre donne giuste, a volte sono tormentate, ma sicuramente non sono mai donne deboli. Inoltre un'altra caratteristica che adoro dei libri di Joan Harris è la sua capacità di farci sentire i gusti e i profumi delle preparazioni culinarie. In ogni suo libro infatti ci sono dei personaggi che dedicano la vita anche alla cucina. Io ho il ricordo della descrizione di una marmellata di pesche che veniva fatta in una cucina da una madre e una figlia e io ricordo di aver proprio sentito in bocca quel sapore dolce della marmellata e quell'odore nel momento in cui si trova la frutta e nel pentolone che cuoce. Quindi insomma ha una capacità secondo me descrittiva fenomenale ed è, come ho detto, una delle mie autrici preferite. Nonostante io abbia letto diversi libri di Joan Harris ho deciso di mostrarvi quello che in realtà me l'ha fatta conoscere, ovvero Chocolat. Questo è stato il primo libro che ho letto dell'autrice e addirittura l'ho riletto. Io non rileggo praticamente niente a parte Harry Potter quindi insomma questo significa che il libro mi è davvero tanto piaciuto così come mi piace questa donna meravigliosa che riesce a creare delle storie magiche. La seconda autrice della quale vi parlo penso sia abbastanza scontata perché credo che questa autrice abbia veramente toccato il cuore di tutti e sto parlando di J.K. Rowling, l'autrice della saga di Harry Potter e non solo. Questa autrice è praticamente il mio mito nel senso che mi piacerebbe tantissimo il mio sogno più grande sarebbe riuscire a realizzare quello che ha fatto lei cioè creare una storia indimenticabile perché questo è Harry Potter. In realtà la storia che sta dietro Harry Potter è piuttosto famosa ma ho piacere adesso di raccontarvela di nuovo perché appunto non è soltanto stata un'idea geniale di una persona normale ma è stata un'idea geniale di una persona che ha avuto una vita fantastica fantastica non sempre positiva ma comunque una vita veramente intensa ecco. Si dice che J.K. Rowling abbia avuto l'idea primordiale di Harry Potter durante un viaggio in treno. Nella sua vita lei si è anche trasferita in Portogallo per alcuni anni dove lavorava, insegnava inglese ed è qui che ha sposato il suo primo marito dal quale ha avuto una figlia e poco dopo in realtà ha divorziato ed è tornata a Edimburgo. È qui in realtà che è iniziato un periodo molto complicato per lei perché non riusciva a trovare lavoro era una mamma single quindi doveva prendersi cura della propria bambina e viveva praticamente del sussidio statale quindi durante questo periodo lei racconta di aver affrontato una forte depressione pensava che tutto andasse storto nella sua vita e addirittura ha usato una frase una volta e cioè ha detto io mi sorprendevo ogni mattina di trovare mia figlia viva proprio perché lei era convinta che tutto quello che aveva di bello nella sua vita un giorno sarebbe scomparso, non ci sarebbe più stato in quel periodo spesso quando portava la bimba fuori per fare una passeggiata poi si fermava al pub gestito da suo cognato nel quale appunto scriveva, portava avanti la stesura di Harry Potter lei dice di aver trovato nella scrittura una cura alla sua depressione ed è proprio su questa che ha basato la figura dei dissennatori dei esseri che sono capaci di portarti via la felicità di succhiarti via la felicità come sappiamo poi Harry Potter è stato concluso e J.K. Rowling ha tentato quindi la pubblicazione il romanzo è stato rifiutato da diverse case editrici fino a quando la case editrice, la Bloomsbury se non erro ha visto il potenziale di questa storia e ha deciso di pubblicarla il resto è storia J.K. Rowling oggi è una delle donne più ricche della Gran Bretagna probabilmente del mondo intero ha dato vita a un mondo che poi si è allargato e ha preso praticamente ogni cosa dai parchi a tema, merchandise abbiamo, non so, siti dedicati a questo noi sono stati tratti, chiaramente lo sappiamo dai suoi libri i film che hanno avuto un successo strepitoso insomma, ancora oggi continuano la Salani e comunque credo un po' tutte le case editrici del mondo continuano a pubblicare delle nuove edizioni di Harry Potter perché ci sono sempre nuovi lettori pronti ad immergersi in questa storia J.K. Rowling una volta diventata appunto una delle donne più ricche della Gran Bretagna ha dedicato parte della sua vita anche alla filantropia io ad esempio ricordo bene che i tre libri il Quidditch attraverso i secoli, le fiabe di Beda e il Bardo e Animali Fantastici quando uscirono tutti i proventi derivanti da questi libri vennero dati in beneficenza io credo che J.K. Rowling sia una figura meravigliosa perché è una donna che ce l'ha fatta da sola perché molto spesso in questa giornata ricordiamo anche le donne che non hanno avuto bisogno dell'aiuto di un uomo per avere successo e lei ne è la prova, è più eclatante ma soprattutto è la prova che se credi davvero nei tuoi sogni, nelle tue capacità, nel tuo progetto e lo porti avanti con cura e con amore tutto diventa possibile specialmente quando questo progetto ha una sua profondità perché Harry Potter non è una semplice storia per bambini o per ragazzi è un libro talmente carico di insegnamenti e di spunti di riflessione di scene di vita dalle quali possiamo veramente imparare qualcosa che è un libro adatto a tutti dai 0 ai 99 anni come si usa anche nei giochi quindi insomma J.K. Rowling rimane una delle figure femminili nella scrittura più importanti secondo me finisco di parlare di J.K. Rowling mostrandovi quello che è il mio libro preferito della saga di Harry Potter Il prigioniero di Azkaban in questo libro compare Sirius Black uno dei personaggi forse più importanti della saga nonostante appunto non sia presente in tutti i volumi è una figura che rimane per sempre nella vita di Harry Potter e soprattutto ha un ruolo molto importante quindi questo libro mi ha molto emozionata oltre a destra una bellissima avventura e quindi è probabilmente il mio libro preferito se ne dovessi proprio scegliere uno perché è praticamente impossibile la terza autrice della quale vi parlo è Elizabeth Gilbert ormai se mi seguite da un po' sapete che io appena ho l'occasione suggerisco uno dei suoi libri quindi era abbastanza scontato che la inserissi in questa lista Elizabeth Gilbert è un'attrice statunitense conosciuta per Mangia Prega Ama un libro che per oltre 180 settimane è rimasto primo in classifica negli Stati Uniti il libro racconta della sua storia personale una storia di crescita infatti l'autrice dopo un periodo molto buio in cui ha affrontato anche una depressione dovuta a un divorzio un divorzio non elaborato diciamo e a delle relazioni che non la portavano diciamo a niente ha deciso di intraprendere un viaggio di riscoperta di se stessa che l'ha portata in Italia, in India e a Bali io quando ho letto questo libro ne sono rimasta estasiata perché Elizabeth Gilbert sa scrivere in una maniera coinvolgente sembra proprio che si rivolga a un amico ed è lo stesso stile di scrittura che ho ritrovato anche in Big Magic un libro di crescita personale che forse è stato il mio primo vero libro di crescita personale dove parla l'autrice dell'importanza di seguire di dare spazio alla vita creativa nelle nostre giornate quindi nonostante lei abbia scritto anche dei romanzi secondo me questi due libri sono quelli più riusciti di questa autrice proprio perché appunto sa insegnare a volersi bene perché poi è quello che anche lei ha imparato su se stessa io grazie a Mangia Prega Ama mi sono avvicinata alla meditazione mi sono avvicinata allo yoga e insomma mi ha proprio aperto un mondo e nonostante l'abbia letto diversi anni fa continuo a tenerlo in libreria con grande cura perché è veramente uno dei libri più belli che abbia mai letto quindi anche qui vi mostro la mia versione di Mangia Prega Ama di Elizabeth Gilbert perché come vedete poi da questo libro ne è stato tratto un film con Julia Roberts e anche il film a me è piaciuto molto purtroppo ho la versione del libro con la copertina del film che non è proprio il massimo però questa avevo fatto sta che quello che conta è il contenuto e se non l'avete fatto vi consiglio davvero di leggerlo perché è un libro che saprà coinvolgervi anche se non racconta la vostra storia secondo me troverete qualcosa di voi in queste pagine bene ragazzi il video finisce qui io adesso sono curiosa di sapere quali sono le vostre autrici preferite quelle donne che grazie alla scrittura vi sanno conquistare e delle quali magari ogni volta che esce un nuovo libro correte a comprarlo a tutti voi auguro una felice festa della donna e lo auguro anche a quegli uomini che sanno rispettare le donne perché credo che sia una festa un po' dedicata al rispetto della donna in generale indipendentemente da se uno è un uomo o una donna per l'appunto vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.